Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e ho deciso di caricare un secondo video anche se questo l'ho registrato tre anni fa ma non l'ho mai caricato questa è una lotta che avevo fatto a caso online contro non so chi come si può vedere dal suo team che ha ben tre uberoni e chiaramente Kjog e Grouton sono archeo Deoxys difesa mi pare forse sia non so, overused, underused, non mi ricordo però non è tanto un problema, Ghiratina abbastanza problematico poi Greninja mi pare Formash, non mi ricordo e poi vabbè Draddigon, sì di quinta ecco lui è quello più scarso la squadra mia è in teoria overused perché ho Clefable e Tapu Bulu però comunque Gastroton mi pareva fosse overused poi ho controllato Ielo, non ho messo più umano, cioè mi sembra un po' troppo forte perché il più Scisor e oddio com'è che si chiamava quello Commoo sono underused in questa situazione e poi ho Necrosman RU mi pare quindi è una squadra overused ma non proprio pura fatta così giusto per divertirmi per provare un po' perché il meta di Sole e Luna come ho detto nel precedente video non è che mi facesse proprio impazzire comunque non me la ricordo neanche questa lotta quindi la riguardo proprio in live mi ricordo che con Necrosma lo metti per chi impara l'evito a roccia cioè non ho Ultra Sole e Ultra Luna dove fai l'Ultra Necrosma che spacca la faccia cioè neanche mi piace usare leggendari OP c'è anche Archeo Chiorga e Archeogradon c'è gli O ma non dà gusto cioè sono decisamente troppo forti comunque qua ah no non ho fatto l'evito a roccia ho fatto sì subito la mossa Z sì Prisma Lasser Z perché pensavo di essere più lento e che quindi non avrei potuto fare due attacchi però incredibilmente più veloce gli faccio un Prisma Lasser Z proprio perché dovevo fargli male e guardate quanto poco gli faccia e lui mi sorprende gli fa un terremoto cioè un Chiorga è fisico non me l'aspettavo quindi vedo che possa resistere due colpi non ho fatto l'evito a roccia strano che non ho fatto l'evito a roccia molto molto strano comunque entra Ghiratina shiny molto bello Ghiratina è uno di quelli che ti piace ecco adesso entra l'evito a roccia Ghiratina mi piace molto questa sua era la forma origine mi pare rispetto all'altra anche se l'altra è più difensiva diciamo che me la sono giocata un po' male qua all'inizio potevo fare l'evito a roccia da prima dunque entra Clefable e boh si comincia a divertirsi che va giù con forze lunari su forze lunari allora primo fatto calmamente che ci sta si perché non l'avrei comunque sciottato e lui qua sbaglia e mi fa fuoco fatto su Clefable perché non sa che con l'abilità che ha Clefable non subisce danni dalle condizioni di stato cioè subisce danno solo dai colpi diretti e difatti come vedete non mi fa assolutamente nulla però Shoguo mi paramentava d'effetto sì cioè non so sicuro Shoguo non l'ho mai usata comunque e anche Ghiratina va giù c'è il senso di soddisfazione quando butti giù i leggendari con i Pokemon non leggendari l'avevo fatto anche quando era 8-9 anni fa con il mio video tributo a Five Guys and a Gigalith che era una serie bellissima io avevo rifatto la squadra su Y e ci faccio una lotta con uno che usa solo leggendari e lo ha comunque qua entra anche il Groudon al 73 non so perché mi abbia accettato di fare una lotta con tutti al 100 se non aveva tutti i Pokemon al 100 però comunque questo Groudon mi ha sorpreso perché è più veloce del mio Clefable pur essendo 27 livelli sotto e Groudon è effettivamente un problema se fosse stato al 100 avrei perso perché Groudon Archeo è una roba che vi auguro di non trovarvelo mai contro ma anche a usarlo cioè se sente che è fottutamente OP poi Dragopulsa non me l'aspettavo qua mi ero scordato che imparassi Dragartigli Groudon e se avesse avuto quello mi avrebbe fatto decisamente più male poi comunque un oltraggio di Commodore Stabato dopo un Dragodanza e qua inizia la sweep mi pare e ora anche Green Ninja Shiny sì non ha velocità massimizzata quel Green Ninja perché se l'avesse avuta massimizzata anche dopo un Dragodanza Commodore l'avrebbe superato tranquillamente in velocità qua la sweep di Commodore era l'unica cosa che potessi fare per vincere diciamo ci sono sì andato abbastanza pesante tra i Draghi con le prende le prende male diciamo siccome è un Pokémon carino anche se fra gli pseudo leggendari fra lui e Gudra sono quelli diciamo un po' più bruttini poi era l'ultimo a Deoxys difesa eh sì Deoxys difesa no non l'ho shot non l'avrei mai shottato beh sì è stata una lotta diciamo beh non bruttissima cioè lui si vede che non è proprio praticissimo di lotte online perché c'ero proprio arato pur avendogli una squadra di leggendari sì mi è anche andata bene che poi ho fatto il traggio tre volte ma avrei comunque vinto voglio dire è rimasto Deoxys difesa ha sciso e a Tapu Bull cosa gli faceva beh sì non me la ricordavo proprio questa lotta abbastanza carina e direi che anche per questo video è tutto come ho detto nell'altro non penso che ne caricherò altri in caso li vedrete arrivederci